Sì, faccio i segnali, faccio i salini? Oggi faccio un residuo alle burba, eh? Oh, vado a raffreddare! Eh, la mia carava, io un centri di anzi. Sì, ma la più piccola avete pagato il posto. No, questi non ho pagato il 60. Eh, più grossi, io avevo detto più grossi, ma 68 posti. No, no, non esistono, ce l'avevamo. La settanta è un buco. Meno d'orco anche i compoti. Ma ciao mi sono? Sì. Quagli, pure un piccolo lucro Ciao, io credo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.